Anche solo per la location dove ci troviamo questo venga percepito. Quindi noi vi ruberemo davvero molto pochissimo tempo perché l'idea della serata è quello che voi colloquiate e chiacchierate con i protagonisti ovvero con le produttrici e con i ragazzi della scuola. Volevo solo invitare Sabina Soloperto, ex delegata regionale, adesso consigliera in generale, a fare un saluto. Buonasera, io sono stata prima di Mariana, delegata regionale, adesso sono al mio secondo mandato come consigliera nazionale e stasera porto i saluti della Presidente nazionale che avrebbe voluto tanto essere qui ma purtroppo non ha potuto raggiungerci. Sarà una serata ricca, l'idea della Presidente per questo evento è proprio questo, avvicinare i consumatori al mondo del vino femminile, quindi il vino nato dalla mente femminile, creato dalla donna e interpretato dalla donna in tutte le sue declinazioni. Quindi questa sera sarà un momento di festa, proprio appunto a ridosso della festa della donna, ma più che altro sarà la possibilità di guidarvi a conoscere la nostra realtà produttiva e il nostro modo di interpretare e vivere il mondo del vino. Legato soprattutto alla iniziazione delle nuove annate, quindi assaggeremo i vini che non sono, alcuni, molti di questi non sono ancora sul mercato. Ecco perché il nostro sottoclaim è la creatività degli esordienti, perché anche noi, pur essendo tutte aziende abbastanza considerate, questa sera siamo per la prima volta con la nostra nuova annata. Quindi io mi auguro che questa idea, visto che di degustazioni legate al vino ce ne sono tante, vi colga abbastanza di sorpresa. Io vi ringrazio a nome di tutte le mie socie, vi ringrazio per la pazienza perché questa sera siamo in tanti e mi auguro di vedervi nei nostri prossimi eventi. Noi abbiamo una pagina Facebook, Instagram e un sito internet dove trovate tutti i nostri eventi, che sono sempre tutti diversi e tutti legati a... Vogliamo sempre, attraverso la sua soluzione, attraverso il sistema, attraverso la squadra, trasferire il bello del mondo del vino. Quindi buona serata a tutti, io passo di nuovo la parola ad Antonella Girola. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto vorrei chiamare con noi Martino Mastrovito, che è un'unica giudice di loro sia di delegato per la Puglia e per la Basilicata, per l'ADI a livello nato a Milano, ora ce ne parlerai tu, ma anche professore della scuola, dell'Accademia IDEA. Però lascio la parola a te per parlarci un po' di questa... Buonasera a tutti. Io rappresento l'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che è nata, penso che lo sappiate, circa 60 anni fa, e racchiude nel suo ambito progettisti, imprese, ma non solo, anche critici, giornalisti, grafici, docenti ovviamente. Io stasera sono qui, rappresento l'ADI, perché il nostro Presidente, Roberto Barchatti, purtroppo voleva essere qui, però è stato tenuto da impegni a Milano e pertanto non è potuto essere qui, pertanto faccio le sue veci in questo caso e mi porto i suoi saluti e soprattutto i suoi ringraziamenti, perché non appena abbiamo avuto l'onore di questo invito, non ci abbiamo pensato un attimo a dare il nostro patrocinio gratuito per questi eventi e per la vostra associazione, sulla quale ci siamo informati, ed è un'associazione molto lodevole, devo dire. Grazie. 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 Grazie.